Sebbene si tenda ad associare la cottura con fuoco a legna, la realizzazione di piatti impegnativi o comunque portanti di un menù, il particolare calore espresso da questi strumenti è in grado di donarci anche attipasti da ricordare, invitanti, golosi, come è il caso di questi involtini di pollo ripieni, in sostanza fagottini di pollo, ripieni di zucchine, fontina e avvolti in pancetta croccante dorata, io direi l'inizio ideale per un menù da ricordare. L'idea di questa ricetta mi è venuta dai miei amici altotesini MIG che realizzano un involtino di pollo ripieno di graucase e barbabietola, nel nostro caso abbiamo disossato una sovracoscia di pollo, l'abbiamo adagiata all'interno di una tazza nella quale abbiamo incrociato delle fette di pancetta tesa, le abbiamo riempite con zucchine marinate, fontina, abbiamo richiuso il tutto e adesso non ci resta che aspettare che il nostro forno a fa pizza faccia la magia. I nostri involtini hanno raggiunto una duratura perfetta e hanno anche raggiunto i 71 gradi al cuore, temperatura di cottura ideale per le carne di pollo. Abbiamo la golosità della pancetta, la dolcezza della fontina e la freschezza delle zucchine, un gioco di contrasti che renderà il nostro piatto di apertura del menù indimenticabile.